Un dono, un'abilità, una naturale inclinazione che rende la persona unica. Tutto questo è molto di più il talento che può essere declinato secondo i più differenti ambiti ma che se valorizzato può apportare grandi cambiamenti alla propria vita e a quella del tessuto sociale. A Lecce, consci del valore delle eccellenze, l'evento Effetto Notte. Avvolti dalle meraviglie di Palazzo Zaccaria, tanti giovani talenti della musica, del cinema, del teatro, dello spettacolo e della danza. La passione e la sensibilità artistica di Maurizio Ciardo e di Miria Gravili ha dato vita all'evento che ha richiamato ospiti blasonati, autorità ed istituzioni, aglietati dalle 25 esibizioni di giovani prodigio che si sono espressi in spettacoli di musica, sfilate di moda, sketch di cabaret e coreografie di danza. Una prestigiosa kermesse, questa presentata da Bruno Viceconte accompagnato dalla madrina Chiara Giuppa. Fil rouge della serata, il talento precettato da numerosi artisti, attori e produttori cinematografici e musicali giunti per l'occasione, come giusto per citarne alcuni, gli attori Walter Nestole, Fausto Romano, il produttore cinematografico e televisivo Alessandro Tartaglia Polcini. Una vetrina internazionale, questa che ha potuto vantare anche la presenza del produttore e musicista italo-americano Giovanni Amighetti, oltre che della pianista internazionale Renata Nemola. Insomma, una serata evento a Lecce che ha saputo emozionare, soprattutto che ha voluto valorizzare ciò che di unico e speciale sa generare il Salento e soprattutto il tacco dello stivale. A concludere la kermesse, il taglio torta, i diversi riconoscimenti e premiazioni alle personalità presenti a suggellare il meraviglioso effetto notte. Grazie.